Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di testimonianza personale che affronta la questione del corpo femminile come un luogo di battaglia e rivendicazione. L'autrice esplora il modo in quale donne viene chiesto fin dall'infanzia di conformarsi a standard di bellezze realistici. Questi standard vengono inculcati loro insieme a messaggi che li incoraggiano a essere accomodanti premurose e a occupare uno spazio limitato nella società. L'autrice condivide il suo vissuto personale trasformandolo in un racconto universale. Attraverso temi fondamentali della filosofia femminista traccia una storia di emancipazione che parla a tutte le persone, sottolineando l'importanza di lottare contro le opprimenti dinamiche di genere e di abbracciare una visione più inclusiva e rispettosa della diversità. La trama del libro Scopriti di Giulia Zollino, edito da Mondadori, è la seguente. Il corpo femminile è da sempre un crocevia di battaglia e rivendicazioni. Fin da piccole alle donne viene chiesto di aderire a certi standard di bellezza che presuppongono un corpo magro, depilato e perennemente giovane. Si insegna allora a dire sempre sì, a essere accoglienti, accondiscendenti, accudenti, specie nei confronti dei maschi, e poi a stare composte, coperte, a non occupare spazio e a non alzare la voce. Giulia Zollino ha vissuto questa educazione, o sarebbe meglio dire diseducazione, sulla propria pelle. La sua infanzia e adolescenza sono trascorse all'insegna dell'inadeguatezza e della colpa. Il corpo le appariva come un oggetto distante da modificare o mortificare, e l'amore, sperimentato anche attraverso una relazione problematica, era solo gelosia e oggettivazione. Poi però ha incontrato il femminismo. È successo a Bologna, durante gli anni burrascosi delle università, tra gruppi di discussione, letture e orgasmi, ed è stato amore a prima vista. Questo incontro ha segnato uno spartiacque, tra un prima e un dopo, da qui ha partito il suo percorso di ribellione e riscoperta di sé. Il femminismo le ha insegnato a distruggere i miti nocivi, come quello della bellezza, permettendoli di accettare e riappropriarsi del suo corpo. Gli ha permesso poi di riconciliarsi con il suo desiderio, rivelando come il piacere, proprio e altrui, se consensuale, possa essere libero e svincolato da una visione sessista dei ruoli, ma soprattutto, grazie al femminismo, è riuscita a disfarsi della mentalità patriarcale che la ingabbiava e rendeva infelice e a ricostruire un nuovo modo di essere, esistere, amare. In questo libro, intimo appassionato, ripercorre il suo vissuto personale, trasformandolo in universale e, toccando i temi fondamentali della filosofia femminista, delinea una storia di emancipazione che parla a tutte e a tutti. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere, cortesemente, cosa ne pensi della trama del libro presentato e, se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra inoltre la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale. Grazie e un caro saluto.